Proseguiamo con il nostro concorso Canoro stasera, andiamo alla terza categoria in gara, sono i ragazzi nella fascia di età 10-12 anni, lei si chiama Nicole Paciotta, eccola qua, vieni Nicole, veloce 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 veloce. Allora Nicole, oh che bel cartoncino che hai, allora sei pronta? Sì, spero che la mia voce possa arrivare a quei bambini meno fortunati di me. E noi ce lo auguriamo, mi raccomando forte e chiara, Nicole canta Alleluia, 12 anni per Nicole Paciotta. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Musica Alleluia 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 Grazie a tutti It's a go, it's a broken Hallelujah 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 Nicola bravissima allora grazie